Dopo aver inaugurato Depuratore, Nuova Piazza, Nuovo Municipio e Teatro di Bottega nell'arco degli ultimi 12 mesi, il Comune di Vallefoglia accelera anche sull'impiantistica sportiva presentando oggi il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Pala Dionigi di Montecchio. Progetto ambizioso che porterà la Megabox Vallefoglia a tornare a casa giocando la massima serie di pallavolo a Montecchio dopo le migrazioni ad Urbino Prima e a Pesaro Ora. Un progetto che è stato stilato dallo studio Vescovi Pazzaglini che ha già individuato le ditte incaricate per un intervento sulla copertura che alzerà il Palasport da 7 a 10 metri e lo amplierà da 1000 a 1500 posti. Noi abbiamo avuto, abbiamo concorso con un altro comune della nostra provincia ai fondi sulla rigenerazione urbana grazie a Megabox che è andato in serie A, quindi ci ha inorgoglito un po' di Vallefoglia nel panorama nazionale e poi abbiamo avuto un finanziamento di 2 milioni e mezzo, 1 milione e 6 l'abbiamo destinato a portare l'impianto a 10 metri sostituendo il tetto in ferro con un tetto in legno migliorando anche l'acustica e poi abbiamo messo da l'avanzo dall'amministrazione 2022 3 milioni d'avanzo, 800 mila euro quindi portando 2 milioni e 4 per fare l'impianto che consenta di essere alto 10 metri e 1500 posti per fare i campionati italiani e i campionati europei ed è una struttura che è al servizio anche di tutti gli altri comuni confinanti perché non c'è un impianto di questa dimensione se non a pesero. Si fa tutto questo per il territorio, non è che si fa per ambizione personale o quant'altro riportare la squadra a Vallefoglia è la cosa più importante che in questo momento possa ipotizzare se pensiamo che in questa stagione sportiva abbiamo avuto 5 dirette Rai e una Sky è motivo di orgoglio, penso che comunque sia una cassa acustica per il territorio, per il comune di Vallefoglia importante quindi poter giocare a Vallefoglia è quello che mi auguro che avvenga con celerità. Progettista di lavoro è l'ingegner Cristian Vescovi rappresentato in conferenza stampa da Carlo Andrea Vescovi che ha illustrato l'intervento di ingegneria strutturale che interverrà sostituendo dall'esterno la copertura attuale dell'edificio con una nuova edificazione in cemento armato in travi, legno e lamellare che sosterranno la nuova copertura. Ha un ampliamento di un innalzamento di 3 metri quindi dagli attuali 7 metri si passa ai 10 metri e la capienza abbiamo un aumento di 500 posti quindi ci sarà una rettifica delle attuali strutture che ospitano il pubblico e più un aumento di volumetria che verrà destinato appunto a un nuovo impalcato per il pubblico. Dunque il progetto c'è, ora bisognerà snellire la burocrazia per iniziare un cantiere che se avviato in tempi celeri potrebbe ottimisticamente vedere il traguardo a metà 2025. Abbiamo l'impresa, la giudicazione come prevedo le norme è provvisoria però sarà fatta quanto prima l'affidamento definitivo e con un cronoprogramma molto rigido. Ringraziamo tutti quelli che ci daranno una mano a fare bene e presto.